Salve a tutti gente, benvenuti in questo canale, io sono Letto47 e oggi siamo sulla quinta, se non sbaglio, puntata di Amnesia Machine for Pigs, ok perfetto Ehm, vediamo dove eramo rimasti, allora questo se non sbaglio era già acceso, quindi chiudiamo, tipo, chiudi, chiudi, stupido, ok perfetto, chiudi, 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 stupido No, fatta da bravo, ok perfetto, allora, vediamo, ehm, no qua, intanto spegniamo perché Uh, ok no, questo non funziona, questo non funziona, e questo non funziona, cioè praticamente ormai funziona tutto a pressione Devo prendere questo, no? Devo prendere questo? No, perfetto Ehm Allora, il numero 3, ahhh, dovevo scenderlo Oh, capito Allora, vediamo, qui, che cos'è? Qui ci sono diverse pressioni, tipo, ma non capisco 5, numero 5, ok, questa qua è acceso Accendiamo un attimo, la torcia, ah, ok Non le lancia Ok, uno E boh Proviamo a chiudere Non clicca Minchia, me lo sono dato sulle gengive Ehm, allora Dovrebbe esserci, tipo, un Un sasso Un pezzo di carbone Forse Vabbè, non voglio far annoiare Non vi voglio far annoiare Perciò Credo che Chiuderò qui il video Anche se sento Rumori molto ambigui Non, non, la cosa non mi piace affatto A dopo Ok, gente Ehm, abbiamo attivato la Cosa 6 La cosa strana Ehm Poi abbiamo attivato Cioè, praticamente Ce n'erano altri due Che ho ovviamente attivato E vediamo se ora Funziona qualcosa Ok Se devo essere sincero Ho molta paura Eh, perfetto Cioè, praticamente Mi son data al switch E che cazzo Che roba è Ah, sembravo un mostro che saltellava Ok, basta Sto Esagerando Ora Allora, qua È chiuso Perfetto Quindi Credo Debo andare dall'altra parte Forse Qui Ah, ok C'è un perno Stupido Sempre con la cosa Che ballonzola Sì, però Che cazzo Stupido Mostro di merda Ehm Minchia È tutto buio Eh, non esageriamo Mi raccomando Apriamola poco a poco Perché tanto Non Tanto siamo puffi noi Siamo blu No, in realtà Non siamo blu Cioè, in realtà Eravamo blu Santo che siamo messi Nelle lavatrici Siamo scoloriti Scolorati Scorrati Insomma Avete capito Chi è? C'è nessuno? Io salgo nelle casse No? Non funziona Perfetto Sali Salta Salta No Minchia Tipo mi prendo una palla Inizio ad ammazzare I maiali I maialini Sento Brutti rumori Tantantanto brutti Tanto la posso fare un cazzo Allora Dove cazzo Devo andare Ragioniamo C'è sto pene che gira C'è Nessuno paga La corrente La bolletta della luce Nessuno? Bene Cioè Perché cazzo Sono venuto qui? Giusto così Per Per Passatempo Forse devo scendere ancora giù Ah no Beh Mi hanno chiuso Beh Ma giusto Mi sembra Abbastanza logico Cazzo dove andare? Allora No Non azzardarti A spegnere la torcia Che cazzo succede? Mi sta vaneggiando Oh Mi butto qui No Della cazzo devo andare? Qui devo premere bottoni? No? Non capisco Allora Secchio Stupido secchio Dunque c'erano delle Information Ok Questa qua L'ho già letto Ehm Non credo sia questo Boh Non lo so Vabbè Promemoria No? Documenti trovati No No vabbè Andiamo Ad cazzo Insomma Non ce ne freghiamo Ok Questo è chiuso Oh Che cosa? Dove? 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 No io mi nascondo Mi nascondo Non ci sono Maiale di merda Oh No 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 Ti porto al macello Ti porto al macello Ti porto al macello Aiuto Stato a voi Non vedrete un cazzo Si sta vicinando Si sta vicinando Si sta vicinando Si sta vicinando E' bruttissimo Bravo Vattene Porca troia No 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 Non ci sono Non ci sono Fuga Via Fuga 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 Strada bloccata Via 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 Dentro Qui dentro No Ok gente Non capisco proprio Dove Dove cazzo Devo andare Dove 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 Stupido Maiale Stupratore Dov'è Non lo vedo Cazzo è quello Tipo c'è una roba Strana Qui Ma ci sono Già passato Non so Non so che cazzo fare Non ho Ogni idea E ora c'è anche il maiale Stupratore Ragazzi Non scherziamo Tanto Il telefono che si spegne Non riesco a vedere A quanti minuti siamo Buttati qui Maiale Maiale di merda Ti sto guardando Non avvicinarti Non avvicinarti Ti sto guardando Dovresti avere paura Aaaaa No no Via 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 Dovrebbe avere paura Di me Qui cosa c'è Chiodi Ti lanci i chiodi Oh questo posto è nuovo No Il cazzo è nuovo Ehm Li possono lanciare Tipo Cazzo ne sono Una bottiglia Ok No Via 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 Cazzo Cazzo Il magliale di Mike Tyson Mi ha tirato Una botta Mi ha tolto Non so quanta vita Perché questo iota Non ce l'ha la vita Dove cazzo sono finito Qui no Oh maiale di merda Cazzo è tipo un cane E' un cane Sono due Trovato 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 Buttati Spaccati Spaccati l'ossa qui Fuggi Eh non intendevo Sul serio Che cazzo Cioè Si è distrutto Ok Vediamo C'è una centrale di carbone E' divertente sapere che sotto a casa mia c'è una centrale di carbone Eravamo così transolini in una Non mi interessa Non leggo Eravamo così transolini in una villa Ci ritroviamo con un maiale che ce la vuole buttare nel culo E' una centrale di carbone Non mi piace Non mi piace sto rumore Sembra molto spaziale E' molto ororifico Intanto avrete sentito un eccesso di voce in più L'ho messo a posto del microfono perché Non si sa mai che magari Non stia registrando come l'altra volta Tipo Come minimo Ah non ho acceso il microfono Sì ok perfetto No ma è tutto chiuso Ma che cazzo Aprite? Qui c'è un bottone Mi ci posso infilare sopra? Cioè Ragazzi Cioè Ma io dico Gli ascensori Non bisogna più usarli Cioè Io intendo Dovete usare Montacarichi Non so se Avete colto Il Il nocciolo della Della questione Bene Ehm Intanto abbiamo una casa sbudellata Abbiamo Cazzo è Sono delle panche No c'è un tizio che sta Ah è un laboratorio C'è il caricamento infinito Non finisce più Rieccoci Il caricamento è durato tipo Qualcosa come mezz'ora E beh ovvio Dovrebbe Dis Non riesco più a parlare Ovvio Un'altra botta Per favore Grazie Un'altra Eh Minchia Non troppo forte Ehi C'è nessuno Mi son cagato Nelle mutande Che cazzo è che disturba il telefono No non rispondo No laboratori No laboratori Allora Ragazzi Se in un videogioco vedete Siete Dentro dei laboratori Non è porca troia Ok fatemi rispondere al telefono E torno subito Pronto La pizza che mi hai promesso Da due episodi No Muori 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 chiudi chiudi Tanto non le sto Letteralmente cagando Queste Le telefonate Magari devo Dovrei Ascoltarle Ma invece Non lo faccio Comunque Vi dicevo Ehm Non vi dicevo un cazzo Me ne sono dimenticato Ah si Se entrate nei laboratori Non è mai una bella cosa In un gioco horror Perché Laboratori Uguale Esperimenti Esperimenti Uguale mostri Mostri Uguale Spaventi Spaventi Uguale Morte Sto bottone No C'è una pagina Sbilluccica Ah no E' una lanterna C'è le pagine C'è Sto gioco Si gira con le pagine Luminescenti Cosa c'era scritto? Dove? Ok Ci sono i recinti Magari troviamo anche qualche mucca Che cazzo li vedi? No No vabbè Cioè non la finiamo più qui Tipo Ci sono 200 km Il labirinto Da percorrere Porca troia No non ho ruotato Era Sospiro Tranquillo Non ruoterei mai Nei video Appunto Intanto Ci vuole inchiappettare Il Orsacchiotto Vaffanculo Orsacchiotto di merda Cioè non si può prendere niente Sto amnesia Proprio Amnesia di merda Cioè non Cioè praticamente Gli è venuta Un'amnesia Al tizio E non parlare Mentre parlo io Non parlare Smettila 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 Devi smetterlo Non chiudere le porte Smettila di parlare Fai dispetti E' chiusa Perfetto Immagino Dobbiamo tornare indietro Perfetto Ho fatto fare una strada Per niente Ma aspetta Qua ci sono andato Dicevo Dicevo Il nostro tizio Ha avuto Un'amnesia E praticamente Non ricorda Come si prendono Le cose Si ricorda solo Come si aprono Le porte E come si prendono Le spaventi E niente Intanto passeggiamo Ah da poco Ho giocato Amnesia Il vecchio E tipo Il cosa dei passi E' assurdo Sembra Tipo Tipo che abbia I piedi Di cemento Boom 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 Ho capito che Magari Che ne so Che ne so Sta Intanto Non ho trovato La chiave In mezzo A mille Mila Casini Eccetera Non ho trovato La chiave Dicevo Ho dei passi Tipo pesantissimi E' una cosa assurda Andiamo qui Cos'è questo Magazzini Perfetto Ti cazzi 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 Ve l'ho detto Che facciamo Nessere esperimenti Questi figli Puttana Bastardi Ti fanno esperimenti Sui maiali Perché erano le maiale Porca puttana Mi son cagato in mano Non farlo mai più Stupita cosa Ma che cazzo Giugno Oddio E' un pisello questo Ok Basta Niente volgarità in questo video Troppa volgarità in questo video Dovrò bippare Non lo farò mai Ancora Ah tipo la slot machine Lei ha vinto Un calcio in culo No ok Basta Basta Ah mi stavo già Cagando Ho detto Minchia E' chiusa la porta Che è? Che è? Non mi piace assolutamente Sta cosa Oh cazzo Oh cazzo 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 Sì ma così Non ho la chiave Zio Come cazzo faccio? Porco Zio Scusate Se ogni tanto sto fermo Ma è Dovete sapere che Il cronometro A volte si spegne E siccome non voglio fare Un video Lungo di Tre quarti d'ora Allora qua c'è Una parte Che non ho visto Perché siccome Io sono stupido E non mi ricordo Un cazzo Devo infilare qui? No Non mi devo infilare qui Perfetto E comunque dicevo A proposito di giochi Che sto giocando Da In questi giorni Mi ha scimmiato parecchio Entriamo qui Ciao Maschera di maialino Ok Basta Stipaneggia Comunque Vabbè ho capito Che quando inizia A strimpellare La Che cazzo No È chiusa No 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 Maiali di merda Il cazzo è baggato Cioè sta fermo Scivola Le saponette Pure lui Guardate no Ma che cazzo Ma è un puffer Cioè Allora ragazzi Oh è un puffer Meno male che Tipo non si scioglie il cervello Stando al buio No Tu non mi hai visto Non mi hai visto Hai una faccia da culo sai Sei uno stronzo Non puoi avermi visto Cazzo fai? Bella zio Ma vuoi giocare a nascondino? Guarda che sono campione mondiale di nascondino Di salto in lungo Fuga 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 Nasconditi Nasconditi Non ti troverai mai Mai Non ti troverai mai qui Almeno spero E comunque dicevo A proposito di giochi Stavo giocando da poco Assassin's Creed Che mi sta piacendo Un botto Ho preparato anche la boxing Perché ho preso la Buchaner Edition Però è uscita una cagata Quindi Credo che non la monterò E non lo upero Nel canale Tanto quando parlo al telefono Tipo rallenta tutto In slow motion Comunque gente Siamo a 19 minuti Il mio Tachimetro Funziona così Siamo a 19 minuti Anzi no Siamo a 20 minuti Quindi io direi di finire quel video Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace Di commentare Per dare qualsiasi tipo di consiglio Per le serie che sto facendo O per consigliarmi qualche Gioco horror da fare E niente Noi ci vediamo al prossimo video Che sarà venerdì con Outlast Ciao ciao Noi ci vediamo al prossimo video 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 Noi ci vediamo al prossimo video